Sembra un'agenda in pelle ma in realtà è un libro, o meglio, infiniti libri. Siamo infatti di fronte al Scibook, un lettore di ebook prodotto dalla Booking. Lo vediamo adesso inserito nella sua custodia protettiva perché ovviamente da portare in giro è un po' delicato, soprattutto per lo schermo. La custodia è due calamite che lo chiudono in modo abbastanza sicuro e lascia comunque libero accesso ai tasti laterali, alle porte sotto per caricare i libri e agli altri tasti, quello del menu, quello di cancellazione dei libri e al led di stato. Lo togliamo dalla sua custodia per vedere che il dispositivo è veramente leggero, molto più leggero di un libro da 500 pagine. Le dimensioni sono invece quelle di un libro in formato economico, quindi circa 12 cm di larghezza e 20 cm di altezza, un po' meno. Sotto troviamo la connessione per gli auricolari perché si possono memorizzare anche file audio e audiolibri e la connessione USB per caricare ulteriori libri sulla memoria interna. Se la memoria interna non fosse sufficiente c'è anche una scheda SD card da inserire nello slot superiore per poter aggiungere ulteriori contenuti. Il display ha una risoluzione di 800x480, o meglio 480x800 perché ovviamente è più alto che largo. Si intravede leggermente la scrittura, i caratteri, questo perché il display e-ink appunto sfrutta un particolare processo dove delle particelle di grafite si attaccano alla parte superiore per creare l'immagine. Un'immagine molto rilassante, non retroilluminata, molto molto simile all'impatto che ci dà la carta. Il Scibook si sta avviando ora, eccoci siamo nella cartella e-books con alcuni e-book abbastanza recenti, possiamo navigare nelle varie cartelle. Digital Edition contiene una serie di libri precaricati in tedesco, inglese e italiano. Andiamo a prendere un libro italiano, ecco qua, con i tasti qua sotto possiamo sfogliarlo, ci sono dei collegamenti ipertestuali che ci permettono di andare direttamente a una serie di contenuti. Possiamo anche aumentare le dimensioni del font per facilitare la lettura come possiamo anche rimpicciolirle, questo però solamente con i libri in formato e-book e non con i pdf per i quali c'è il classico zoom. Premendo il tasto centrale si accede a un menu dove si può regolare appunto la dimensione del testo. Oppure si può entrare in un'età avanzata che ci permette di cambiare la lingua e attivare quello che si definisce refresh completo. Disabilitando il refresh completo infatti possiamo cambiare pagina in modo seamless come se la stessimo sfogliando ma il problema è che resta comunque una piccola persistenza, si può vedere qua sotto, dei caratteri precedenti. Quindi se invece utilizziamo la modalità refresh completo ogni volta che si cambia pagina il pannello va in negativo per resettare completamente l'immagine e ci mostra la pagina nuova. Dà un po' più fastidio però salvaguarda meglio il nostro pannello. La durata della batteria è davvero elevata, si riesce a leggere tranquillamente più di un libro senza dover ricaricare il dispositivo. E la lettura non stanca affatto.